cartagine venne fortemente penalizzata dalla perdita della sicilia e dalle dure condizioni di pace imposte da roma ben presto quindi cominciò a pianificare la rivincita l'oligarchia mercantile che guidava la città capeggiata dalla potente famiglia dei barca intraprese l'espansione nella penisola iberica conquistandone buona parte i successi dei cartaginesi suscitarono forti preoccupazioni a roma era chiaro che cartagine stava ponendo le basi per riaprire il conflitto era questa la strategia del generale annibale egli espugnò la città spagnola di sagunto alleata dei romani provocando l'intervento di roma e l'inizio della seconda guerra punica attraversati i pirenei e la gaglia annibale varcò le alpi sconfitti i romani sui fiumi ticino e trebbia nell'italia settentrionale entrò in etruria e nel 217 avanti cristo sul lago trasimeno sconfisse di nuovo i romani guidati dal console caio flaminio la strada per roma era aperta ma annibale constatando che gli italici restavano fedeli a roma si spostò in puglia per sollevare contro i romani le colonie greche l'esercito inviato da roma in puglia fu pesantemente sconfitto a canne nel 216 avanti cristo la svolta nella seconda guerra punica si ebbe solo quando il console pubblico cornellio scipione assunse il comando dell'esercito e gli trasferì le operazioni militari in territorio nemico nel 204 avanti cristo sbarcò in africa e sconfisse annibale a zama nel 202 il trattato di pace prevedeva durissime condizioni per cartagine la consegna della flotta e di tutti i territori fuori dall'africa il divieto di fare guerre senza il consenso romano e una pesante indennità di guerra a seguito della vittoria sui cartaginesi nel 197 avanti cristo furono create le province della spagna citeriore e ulteriore Grazie a tutti! Grazie a tutti!